Una giornata io la definirei storica perché comunque per la prima volta la Ternana avrà un suo centro sportivo per il settore giovanile. Fino ad adesso ci siamo adattati a giri un po' itineranti e oggi abbiamo una casa nostra. Questo per volere del Presidente Bandecchi, per volere della società. A me da Vice Presidente della Ternana e da tifoso della Ternana e da cittadino di Terni è una cosa che mi inorgoglisce tantissimo. Avere apposto la firma a questo tipo di convenzione. Andremo a rifare un campo di ultima generazione per quanto riguarda il campo di calcio a 11. Non verrà rifatto solamente sopra quello ma sarà comunque allargato. Verrà ristrutturato tutti gli spogliatori e la tribuna dell'impianto. Inoltre faremo altri due campi, una 5 e una 7 con annesse degli spogliatori.